Ok ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Dove vedete che c'è il twister Ci c'è un gioco col twister E qua ci sono ogni carta diverso Ok? Nella ruota tipo Jack di quadri Jack di cuori Guarda che non si chiude più Eccetera eccetera Tipo 6 di picche Ok adesso gireremo la ruota Ok 9 di fiori Perché mi ricordo che io qua c'è il 9 di fiori Quindi 9 di fiori E la vostra carta Ok? Si lascia qua per essere sicuri Come vedete potete prendere 6 di picche Che io mi ricordo che era lì Jack di cuori e jack di quadri Ok? Solo che io c'ho proprio un assistente Che è il mio amico Antonio Che è qua Che sopra c'è la scatola del twister Guarda si prende la scatola del twister Che lui non ha mai toccato Non so neanche come si gioca È vero c'è Non so neanche da dove vi sono Vedete che qua si apre C'è un bigliettino Oltre a tutte le istruzioni Istruzioni di come si gioca Leggile No leggile però Che così almeno sai come si gioca Qua c'è un fogliettino Con esattamente scritto Il 9 di fiori Come la vostra carta selezionata Ciao 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 Ciao